E' una delle squadre che negli ultimi anni ha disputato dagli ottimi campionati, stazionando sempre in orbita play-off. Quest'anno addirittura ha sfiorato il pass per il terzo turno, pareggiando per 1-1 alla zeccheria di Foggia. E' il potenza di Alberto Colombo, che riparte dal bomber Salvatore Caturano, punto di riferimento dell'attacco dei Leoni, ed ha impreziosito l'organico aggiungendo il centrocampista Erpino di Mugnano del Cardinale Prezioso, nella passata stagione protagonista nelle Marche ad Ancona e poi rinforzato il reparto offensivo con l'ex attaccante dei Lupi di Braia, Luca Gagliano, arrivato in prestito dal Padova. Hanno salutato invece potenza Gabriele Rocchi, ex compagno di squadra proprio di Gagliano in bianco-verde, che ha raggiunto Latina. Insieme a lui nei puntini ci sarà anche il forte centrocampista Andrea Cittadino. Altro addio a 5 Stelle per il rosso-blu è stato quello di Lorenzo Delpinto, ex calciatore anche del Benevento in massima serie, ha trovato l'accordo con gli abruzzesi dell'Aquila, il DS del club. Fortunato Varra non ha ancora chiuso l'organico per l'ex mister di Monopoli e di Pescara, ma ha ringiovanito il roster, visto che la squadra attuale di Patron, Donato Maccia, ha un'età media che non arriva a 24 anni.